Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi siamo qua per il consueto appuntamento con la Steam Summer Sale per vedere un po' le novità di oggi, novità che sono, a dire il vero, parecchie parecchie come poi sta succedendo anche negli ultimi giorni perché di giochi interessanti da comprare ce ne sono più di uno per cui direi di cominciare subito, se no andiamo sempre per le lunghe con Plague Inc. Evolved questo è un gioco molto particolare, un gioco che magari alcuni di voi hanno giocato su dispositivi iOS ed è un gioco in cui praticamente l'obiettivo è quello di far diffondere quanto più velocemente possibile nella maniera più efficace possibile un virus ci sono diverse tipologie di virus lo sviluppo delle partite è molto interessante anche perché ogni virus che si utilizza ha diversi alberi di progressione che permettono di potenziarlo in maniera sempre più violenta non c'è nulla di grafico, non vedrete la gente vomitare sangue o che ne so, cagarsi addosso ma diciamo che il modo in cui è reeso graficamente è molto interessante è un gioco su cui è strano a dirsi ma ho fatto più di 40 ore perché tra l'altro adesso hanno aperto le porte ai modder per cui ci hanno fatto qualsiasi cosa addirittura ho visto una mod per il virus dei licantropi di Twilight chi più ne ha più ne mette insomma c'è veramente da divertirsi e considerando che è ancora in accesso anticipato, in early access è auspicabile che facciano anche ulteriori novità nei prossimi mesi lo trovate al 33% di sconto, per cui 9,37€ ve lo consiglio caldamente poi andando avanti c'è Elder Scrolls, tutto è il franchise in offerta c'è Skyrim a 3,74€, 75% di sconto se non lo comprate, nel caso qui non lo possediate già siete veramente delle bruttissime 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 persone considerando anche la quantità di mod che c'è per questo gioco direi che chiunque se lo fosse perso o chiunque abbia voglia di rigiocarlo non troverà probabilmente un'offerta migliore di questa c'è anche la Legendary Edition a 10,19€ con tutti i DLC che sono tra l'altro ottimi per cui io fossi buon, pensierino, ce lo farei c'è anche la Game of the Year Edition di Oblivion è vecchio obiettivamente, però c'ha sempre il suo perché stesso discorso per The Elder Scrolls 3 Morrowind disponibile nella Game of the Year Edition a 5€ insomma ragazzi, se vi piacciono gli RPG, oggi è la giornata per voi poi abbiamo il Trono di Spade il Trono di Spade che è fatto da Iteltale il solito discorso che poi vi ho fatto anche nei giorni scorsi su PC è l'unico posto in cui avrete l'opportunità di giocarlo in italiano perché potete contare sulle traduzioni amatoriali per cui se stavate aspettando un'occasione per portarvela a casa oggi è sicuramente il momento migliore anche perché sta scontato del 50% a 14 euro ve lo portate via e ve lo potete giocare in italiano i primi 4 episodi, chiaramente il quinto e il sesto chissà quando arriveranno grazie a The Elder Scrolls 3 che come al solito sei sempre rapidissima nello sviluppo delle tue serie e direi che possiamo andare avanti andare avanti con Metal Gear Story 5 Ground Zeroes che è disponibile al 75% di sconto 4,99€ che dire, è un gioco su cui si è detto di tutto l'hanno criticato, è troppo corto, fa cagare eccetera non è assolutamente vero sì, è vero che è corto però è sempre Metal Gear e a 5 euro diciamo che se non lo si compra adesso tanto vale non giocare mai a Metal Gear considerando che l'uscita di Phantom Pain si avvicina perché è il primo settembre avete due mesi per finire questo vi passerà una sera ma non è importante comunque sia, già che ci sono vi segnalo che è vero che qui sta scontato del 75% lo comprate a 5 euro ma se avete una PS4 ve lo prendete gratis a patto che siate abbonati al PS Plus per cui fateci un pensierino anche in questo senso poi, poi, poi abbiamo South Park e il bastone della verità io non ci ho giocato perché onestamente non sono mai stato fan di South Park e nonostante mi abbiano detto tutti che è un bellissimo RPG non mi sono mai convinto a comprarlo perché ripeto, non mi piace South Park però, se a voi invece piace lo trovate al 66% di sconto per cui invece di 30 euro 10 euro e 19 fateci un pensierino poi abbiamo abbiamo la saga di Company of Heroes questa è una saga che a me piace tant'errimo non tanto c'è il franchise edition che sono tutti Company of Heroes a 20 euro se no c'è Company of Heroes 2 che ha l'espansione a 10 euro quindi invece di no, non è l'espansione non ho idea di che cosa sia nuovo capitolo, ecco no ho detto la cretinata ha 10 euro invece che 40 Company of Heroes 2 ha 8,74 euro invece di 35 io ho giocato a questo e l'ho trovato meraviglioso non bello, meraviglioso per cui se vi piacciono gli strategici un po' all'antica molto tattici molto, molto intensi questo sicuramente vi divertirà tanto, 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 tanto a quelli più vecchi confesso di non averci giocato sono un po' un nabbo da questo punto di vista però considerando che sono scontatissimi quasi quasi mi riprendo e recupero poi abbiamo le offerte lampo che sono quelle un po' più come dico sempre quelle in cui bisogna agire rapidamente che oggi sono parecchio parecchio interessanti perché abbiamo Torchlight 2 a 3,79 euro che è un ottimo prezzo per un simile diablo veramente ben fatto tanto loot tante cose da fare tanti dungeon non c'è veramente l'imbarazzo della scelta e lo trovate scontato dell'80% per cui meglio di così considerando che c'è pure il multiplayer non si può veramente fare in giro oppure abbiamo Bastio che questo è un gioco eccezionale artisticamente splendido ma anche a livello di narrazione progressione gameplay gran bel gioco che si trova a 75% di sconto 2,74 se vi perdete perle come questa quando stanno a questo prezzo tanto vale che cambiate hobby poi abbiamo la collection di Devil May Cry che è disponibile a 65 euro beh gran bella offerta considerando che singolarmente uno li paga a 34 vabbè il solito problema dei bundle che non vengono aggiornati comunque sia trovate Devil May Cry 4 non scontato Devil May Cry 3 a 4,79 euro e DMC Devil May Cry a 11,99 euro io onestamente su PC non è che li consiglio tantissimo perché da quello che ho avuto modo di provare tempo fa non ricordo che fossero ottimizzati chissà quanto bene ma per quanto riguarda l'ultimo il reboot che non ho amato particolarmente perché non amo questa derivazione molto Twilight della saga comunque è un buon gioco un ottimo gioco dal punto di vista del gameplay a 12 euro è un'ottima un'ottima offerta prima di chiudere abbiamo Injustice Gods Among Us Ultimate Edition che si trova a 3,49 euro se vi piacciono i picchiaduro questo qui è sicuramente uno dei migliori che potete trovare ultimamente soprattutto a un prezzo così basso 75% di sconto se appunto vi piace il genere preparatevi a una serata di sangue e cazzotti perché insomma 3,49 euro ragazzi quanto cazzo vi volete pagare questi giochi se non così poco e per chiudere quella che è veramente una una piccola perla che prima o poi mi piacerebbe portare nel canale che è Gone Home è un gioco che io ho adorato alla follia non solo per il coraggio degli sviluppatori nel trattare un tema molto particolare di cui non vi anticipo nulla perché diciamo che è il colpo di scena finale della storia ma soprattutto per il modo in cui è stato reso è un gioco di scoperta di scoperta psicologica se vogliamo in cui si vestono i panni di una ragazza che torna a casa una sera trova la casa vuota e praticamente quello che inizialmente sembra un survival horror perché ha delle sequenze scriptate che fanno abbastanza paura anche se siete adulti col tempo si sviluppa in tutta altra cosa è molto emozionante emotivamente molto intenso è un gioco che vi consiglio con tutto il cuore anche perché si trova a 2,39 euro ed è sviluppato da un team di sviluppo veramente molto molto bravo che merita tutta la vostra attenzione per cui a 2,40 euro ragazzi compratelo senza neanche pensarci e poi mi darete ragione detto questo ragazzi io non posso che ringraziarvi come sempre di avermi seguito come sempre vi invito a farmi sapere cosa comprerete cosa avete comprato cosa invece sperate che possa calare di prezzo perché insomma la speranza di tutto è sempre quella per cui ci vediamo domani per il nuovo appuntamento con la sim summer sale da vostro volcadino è tutto alla prossima ciao ragazzi